Colpì lo scafista, ma lo fece per difendersi da una rapina. Sono uscite le motivazioni con cui la Corte d'Appello ha assolto un giovane profugo ospitato in una struttura protetta di Mussolente dall'accusa di tentato omicidio. L'immigrato centrò con una pinza la testa di un connazionale gambiano, ferendolo gravemente. Il ragazzo, che oggi ha 22 anni, ha agito per legittima difesa. Il suo scafista voleva farsi consegnare soldi cellulare e documenti. Per i giudici, il giovane ha reagito per paura e soprattutto per difendere la propria incolumità.